Oggi vorrei provare a fare una recensione di due testi teatrali davanti a Youtube aiutandomi con l'ausilio di un foglio compilato con dei pensieri buttati già a caso che tenterò di tradire totalmente durante il live Innanzitutto i due testi sono lo stesso testo dalla parte di due autori diversi sono la Medea di Euripide e quella di Seneca separati da 500 anni o 440, adesso non so fare bene i conti saranno 440 Innanzitutto Seneca non serve a niente In secondo luogo invece però è molto interessante In terzo luogo la storia, spoiler, è che Medea ha ucciso i suoi figli In quarto luogo non so dove sono arrivato Bisogna sempre ritornare alle Argonautiche o altrimenti non si capisce niente Medea è una barbara che è stata raccattata dall'eroe Giasone nel Mar Nero in Tessaglia no, o forse più lontano perché altrimenti sarebbe rimasta lì a marcire con i barbari eppure i barbari sono solo balbuzienti e balbuzziscono balbettano semplicemente perché vengono da lontano invece sanno la loro lingua e non quella atinese, cretese, corinzia e quindi provato a parlare cinese come si dice comunemente si capisce bene che Medea è una strega però in entrambi i testi non si fa molto riferimento a tutta la vicenda precedente si dà per scontato che uno la sappia infatti io non la sappia però ne ho sentito parlare mi ricordo che c'è Teseo che deve andare a prendersi il vello d'oro il vello d'oro per esempio Freud dice certo Venera è in pelliccia perché la pelliccia è un simbolo dei della peluria nascosta per non essere squallido dico così Medea è una strega ed è una potentissima strega però Medea è vittima delle sue passioni una cosa che non si riesce a non vedere anche se non è messa in luce troppo con troppa evidenza è quanto Medea ami il suo povero marito che si è risposato con la figlia del re di Corinto ancora non riesce lo odia profondamente ma non riesce a smettere di marglia infatti non uccide lui uccide tutti uccide il padre e uccide il re la figlia del re e i suoi due figli e lascia vivo il padre dei suoi figli per cui ha abbandonato la terra natale ha smembrato il corpo morto del fratello ha tradito il padre eccetera eccetera è stata esiliata da tutte le altre città di Grecia un'altra cosa abbastanza strana è che Medea non uccida se stessa anzi in Euripide sta lì tutto il tempo a progettare il modo migliore di non uccidersi e cioè addirittura incastra il re d'Atene per far si che quando sarà esiliata e avrà compiuto il crimine più grave contro l'umanità cioè l'uccisione dei figli troverà un posto in cui stare troverà comunque un posto in cui stare e questo è abbastanza strano visto che Medea ha comunque dei sensi di colpa una interpretazione possibile è che ovviamente uccidendo i suoi figli Medea non uccida altro che se stessa quindi Medea uccide se stessa e dopo aver ucciso se stessa due volte nei suoi figli può fare anche meno di uccidere anche il suo corpo è come se fosse già morta anche se io mi libererei in fretta di una vita così mal sopportabile una un episodio interessantissimo in tutta la vicenda è quando Medea e Giasone si scambiano le colpe Medea si dichiara innocente fino a prima di compiere il suo gesto i suoi due omicidi anche se ha ucciso una ventina di persone si dichiara innocente dice tutti i crimini che ho compiuto le compiuti per te Giasone dice si si sono uno stronzo ma una cosa ti ho dato ti ho dato la grecità e questo ti basta ti ho dato la civiltà per Seneca invece l'unica giustificazione dell'esistenza del testo serigiano è il suo stoicismo e per stoicismo intendo intendo o bella età o bella età dell'oro e cioè è meglio Medea con la sua barbarie con i suoi peli sotto le ascelle con la sua stregoneria religiosa atavica quasi senso quasi inalfabeta è meglio Medea con la sua mancanza di civiltà è meglio Medea li rimmi di questa fottutissima società in cui conta solo l'oro e ma non contano l'oro conta solo l'oro e si tradisce l'umanità non si sa più cosa sia la semplicità Medea nel testo se ne chiama è una campionessa stoica incarna il mito della povertà della purezza incarna l'origine e desantifica tutta la civiltà a desantificare la giustizia ci riesce anche nel testo di Oripide poiché di fronte all'abominio del tradimento la cessazione dell'amore ancora più di tutti i crimini patiti ancora più dell'esilio è la sorta di sollevata di suo marito che la fa impazzire e cioè come dire non esiste la pazzia come la pensano i più anche i deliri sono molto sensati e Medea è molto sensata anche sulle sue ragioni difficilmente possono venire capite però lei si ritrova abbandonata dal mondo e non ha più la capacità di rispettare questo fottutissimo mondo che l'ha fottuta in tutti i modi possibili ma proprio alla fine proprio adesso quando molta gente sarebbe sbroccata molto prima proprio adesso lei esce di senno e dice la giustizia non esiste ogni cosa è possibile posso compiere qualunque crimine pur di farla pagare a questo tremendo Giasone ah Giasone Giasone ho saltato il terzo coro di Seneca perché era noiosissimo e si diceva come avrebbe fatto ad uccidere la gente probabilmente c'erano rimandi psicologici interessantissimi ma mi sono un po' scartavetrato la minchia bene grazie 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 grazie